Buongiorno cari amici, sempre dal terrazzo causa Covid, faremo un esercizio sempre alla saga mostaggiata però cercheremo di colpire il quadruccio blu, cosa molto difficile perché il quadruccio blu è molto ridotto lo faremo sempre usando un apt85 gas, replicheremo questo esercizio poi al campo di tiro quando sarà possibile tramite Covid in calibri 9, 45 e quant'altro, vado ad eseguire Vado ad eseguire Ok, l'esercizio è stato eseguito in maniera corretta cercando di mantenere sempre i 3 metri da una saga mostaggiata andiamo a vedere sul cartaceo che cosa abbiamo combinato L'importante era non colpire la sagoma bianca e colpire quella blu Non sono 16 colpi però diciamo che è andata abbastanza bene Dal terrazzo con la mia splendida equipe inquadra anche il Flavio Production due gare, prima gara, secondo classificato Alla prossima performance Grazie a tutti Grazie a tutti